Ragazzi! Ma le pagelle quest'anno non me le fate vedere eh? No, si, si, mi piace! Eh, forza, su! Cominciamo da Sabino, perché già immagini i risultati che ha avuto, guarda! Quindi cominciamo dal peggio, così magari... Così magari... Oh, Sabino! Italiano 8! Latino 9! Lingua straniera 10! Sabino, bravissimo, figlio mio! Sei l'orgoglio della famiglia! Non me l'aspettavo, guarda! Sono meravigliato! Che a me è andata a vera, papà! Ma beh, lo so, figurati, figlio mio! So che tu sei un bravissimo ragazzo! Sì! Italiano 4! Latino 3! Cosa? Lingua straniera 2! Ma per qualche miseria! Eh, vabbè! Ma questa non è la mia pagella! Ma non è la mia pagella! Sabino 3! Puuu! Sabino, figlio mio! Che pagella! Che strazio! Italiano 4! Latino 3! Ma come... Ma no, vedo che accineti! Che serve? Papà, perché il professore ha tutto così un bravo! Mi si fa tirare i pugni! No! Tutto male? Uh! No, 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 ragazzi no! A scuola non si va più! Da domani giù a lavorare! In salumeria! Basta così! Sì! Madonna, è stato sempre il mio saluto della mia vita! Lavorare in salumeria! Che faccio? Affetto! Quando vuole 10 kg di salame? 15,90! Oggi un'offerta del crudo di Parma! Affetto! Affetto! Ho una sorpresa per te! Però prima di dartela devo prendertela! Va bene! Va bene! Tu non immagini neanche che sorpresa rimanei... Aspetto con altri! Stuperrito! Tenti, prendi uno! La pagetta! Vedi, da! Italiano 2! Geografia 3! Filosofia 3! Sapino! Italiano 4! Latino 3! Lingua straniera 2! Chiama il professore! Bene! Professore, buongiorno! Sono il padre di Ricciardelli! Ma insomma, ma che... Ma che pagina è questa? Io so che mio figlio la... Studia sempre! Sta sempre così in casa! L'idattimento zero! Ehi, ti faccio un malama! Io ti faccio un malama! Eh! Ti devo dare una notizia importantissima! Ho preso 10 a una materia che non è educazione fisica! Tremisione! Mamma Bambu! Eh! Non diceva lei adesso! Anzi! 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 MTTI BIVISSIMI! Ma papà, grazie! Non dovevi! Non dovevi, non dovevi! Mi raccompi il motorino adesso, mi raccompi il motorino adesso! Ma certo che devo raccompi il motorino! Ma prima di comprartelo, fammi firmare questa pagella! Perché io sono davvero orgoglioso di te! Adesso metto proprio qui la mia firma che nessuno può imitare! perchè la mia firma è troppo bella e difficil... Vuoi marcherci? Ma sta pagella mi fa vedere? Oh papà, ma che hai fatto capire? Perché chi è selvaggio? Chi è onesto? Ma quello è selvaggio che è onesto Fammi vedere sta pagella Lì, non vedete No Non mi fa vedere la pagella? No Non mi fa vedere? No Ma no? No Oh papà, mi sei venuto fin Papà, la cattigione deve essere che vuoi fare la cacca Ma no Ma no Beh raga, questo è Frenchman, l'avete appena visto Tipi da pagella Recuperiamo l'evento Di sabato scorso Il centro commerciale Mongolfiera di Andria Il... 5 marzo Esatto E? E ci vediamo un lato Va bene Ciao Ciao Ciao